Presentato questa mattina in conferenza stampa presso la sede di Acque Spa in Via Garigliano la certificazione di accreditamento riguardante i laboratori di analisi chimiche e microbiologiche dell'Utility di Empoli. Si tratta di una importante innovazione nel campo del servizio idrico integrato in Toscana destinato a produrre numerosi benefici pratici nella gestione quotidiana e straordinaria del servizio idrico ai cittadini. Alessandra Falai È stato un percorso corale e complesso quello che ha portato Acque Spa ad acquisire uno schema multisito di laboratori accreditato per tutte le matrici ambientali inerenti al servizio idrico integrato. Sicuramente per noi è un grandissimo risultato e ovviamente motivo di grande orgoglio perché noi alla fine risultiamo essere sul versante delle capacità di analisi, della certezza, dei dati che noi forniamo, della trasparenza risultiamo essere allo stesso livello dei più grandi gestori italiani, mi riferisco alle grandi quotate in borsa. La certificazione rispetto all'accreditamento dei laboratori si integra ed è molto importante perché non duplica nessun tipo di procedura ma si integra, ha già il sistema che in Acque è implementato da anni di procedure e che ci consente quindi di razionalizzare documenti e processi e andare incontro alle esigenze naturalmente dell'utenza di semplificazione sempre di più. L'accreditamento è in sostanza l'attestazione da parte di un organismo nazionale, Accredia in questo caso, in cui si riconosce il soddisfacimento di criteri e parametri stabiliti atti a garantire l'idoneità di tutta la filiera di Acque dalle procedure alla strumentazione alle professionalità. Non è una certificazione che vale un semplice bollino o un foglio acquisito ma è un valore aggiunto per tutti i portatori di interessi verso Acque, quindi tutti gli stakeholders, dalle enti pubblici alle autorità di controllo e non per ultimo all'utente stesso. Porta dei vantaggi sostanziali e tangibili in termini di qualità, garanzia del dato, trasparenza, affidabilità e certezza del dato analitico pubblicato in tutte le occasioni in cui Acque deve ed è obbligata a pubblicare in modo trasparente i dati analitici del proprio prodotto. La certificazione di accreditamento è uno strumento che semplifica l'attività del gestore e che si pone in sinergia con quella svolta dal sistema pubblico, fornendo in tempo reale una banca dati certificata e tracciabile in ogni sua parte con grande risparmio di mezzi ed energie. Questa banca dati, questa banca di informazioni ci permette di avere un più ampio modo di ragionare e modo di individuare i potenziali pericoli che possono presentarsi. Questo senza dubbio è da mettere in rilievo.